Sarebbe il minimo per quello che mi riguarda, sarebbe il minimo. Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo conosciuto in queste settimane. L'irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei Paesi Sicili si chiama irresponsabilità. Mi auguro ovviamente che tutti quanti di fronte a questa quarta ondata capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini è un dovere che appartiene a tutti quanti, non ad alcuni sì e ad altri no. Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi ha deciso di vaccinarsi e ha dato prova di senso di responsabilità.